Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza al caro fratello, il Papa Tawadros II, e a tutta la nazione egiziana che due giorni fa ha subito un altro atto di feroce violenza. Le vittime, tra cui anche i bambini, sono fedeli che si recavano a un santuario a pregare e sono stati uccisi dopo che si erano rifiutati di rinnegare la loro fede cristiana. Signore, accolga nella sua pace questi coraggiosi testimoni, questi martiri, e converta i cuori dei terroristi. E preghiamo anche per le vittime dell'orribile attentato di lunedì scorso a Manchester, dove tante giovani vite sono state crudelmente spezzate. Sono vicino ai familiari e a quanti ne piangono la scomparsa.